Ciao a tutti appassionati del fai da te! Io sono Mauro e questo è Zio Orso, il canale per i makers. In questo video ti faccio vedere il mio metodo per trovare il centro esatto di una tavola. Purtroppo questa settimana sono stato malato e quindi non ho frequentato moltissimo il lab. Infatti il progetto di oggi non è un vero e proprio progetto. Diciamo che mi sono costruito un gadget che mi servirà per un progetto futuro. Siccome lo trovo simpatico e utile ho deciso di condividerlo con voi. Diciamo che è utile soprattutto quando si deve trovare il centro di una tavola per poterla spinare con un'altra oppure in qualunque altra situazione abbiamo bisogno di trovare il centro perfetto di una tavola. Prima di lasciarti alla realizzazione voglio invitarti ad interagire con il canale quindi se il video ti è piaciuto mi raccomando condividilo con i tuoi amici ed un pollice all'in su è sempre gradito. Se schiacci invece quello all'in giù fammi sapere come migliorare. Se ti va di rimanere sempre aggiornato sul canale inoltre puoi seguirmi sui social e se hai qualche domanda fammela sotto nei commenti. Puoi anche supportare il canale offrendomi un caffè su paypal oppure se hai bisogno di fare degli acquisti su amazon puoi farlo passando per il mio link. La tua spesa non varierà però il canale riceverà una piccola commissione. Colgo anche l'occasione per ringraziare tutti quelli che già lo stanno facendo e buona visione! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!